C'è poco da fare. La sentenza sui effetti di riscaldamento globale sugli oceani sembra già scritta. Anche se un giorno l'umanità riuscirà da zerare le sue emissioni di gas serra, il livello del mare continuerà a salire per i secoli a venire. Questo è quanto affermano i ricercatori del MIT di Boston, che prendono in esame le emissioni sia di anidite carbonica sia di composti di breve durata, cioè di gas serra che permangono solo per alcuni anni o decenni in atmosfera, come metano, clorofluorocarburi o idrofluorocarburi. Secondo questo studio, gli esperti confermano che, una volta interrotte le emissioni di CO2, il riscaldamento globale e l'inanziamento del mare, allora associati, proseguiranno per mille e più anni. Inoltre, anche per il metano, che ha una permanenza in atmosfera di appena 10 anni, gli effetti dureranno per secoli dopo lo stop delle emissioni. La causa viene definita l'inerzia degli oceani. Nel momento in cui il termometro del pianeta sale a causa dei gas serra, spiegano gli scienziati, le acque si scaldano e si espandono, facendo innalzare il livello del mare. Nell'oceano il calore, infatti, scende sempre più in profondità, determinando una continua espansione termica. La fuoriuscita di questo calore dal mare, e quindi il raffreddamento, sottolineano, è un processo molto lento che può durare dai 100 ai 1000 anni.